Hai senza parole? Vedi? Io lo scrivo lì, ma... Eh, perché allora non c'è nulla? Niente. Niente. Va bene. Ok. Fai un'iettina. Allora, l'unica sarà andata. Ah, certo. Somma. Tant'abbè. Ma perché è il derivio? Eh, andiamo andando a Roma via, come sveglia. Ma qui non mi metti la macchina, non so. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Ma è vero che sia già rossato, che aveva di più. E... E... Eh, ho alcun momento. Ah, beh. Poi, vengo passere la piazza, vengo due o tre canister d'erro, per fare la mia... Ah, va lì alla fontana, lì... Ah, va. Ah, ma vuoi scoprire l'errore lì? Allora, per bevi io alla fontana, a rossano, ma... Ah, va, va. Ma c'è un mico ne fase... Per bagner l'ort! Per bagner l'ort! Ma fare mal i piazza! Pianta il cucciotto e... Ah, beh, ma capiscio, però... Il ravanino! Eh? Il ravanino! E lì ne spie nevola... Da che parte, a capire l'errore. A capire, a capire, a capire, a capire... Allora, nella c'estem. L'altro anno, a vittà dei fai, e adesso la fontana c'è un pidume piadero... Eh, non sai... No, fa sì sì, è l'errore. Eh, va bene! Però, a capire, ho fatto l'ordinanza e qui se ne tira l'errore... ma se la siccità mi ne peri, io l'ordinasse stia nel nero però se ti ha bagnato il piano del falata o ricostanele se scrivi che si prende un bagno, mi bagno nel nero si, va bene, bagno nel nero non è come lo si che pagnavano noi per poco il ciappello eh va bene, io vado, vado ti ne ce la vedi cosa faccio mi ne ce la vedi e tutto il foto e l'ho che lava la macchina noi che cosa vuoi? e va bene, lava un po' la macchina se la varia o no? mi distiace che lava è proprio una cosa che mentre ne sgaierà mi ne ho capito che mentre ne sgaierà la parola mi se, l'altra me lavavo nianca a me sa che lavavo nianca mi dico che lavavo nianca mi dico che lavavo nianca mi dico che lavavo nianca la macchina la mette tipo si ma beh, la questione è nianca i re no no, io no aveva una testa salata mi potevo nianca dal rubinet a scuole l'acqua e dottore per lavavo nianca si lavavo nianca e poi lavavo nianca e poi lavavo nianca dove lo faccio? ma beh, per me va qui capa la panniera si lavavo nianca il cuore la panniera fiur aquella vete il pet ecco ma perchè mi dico che lavavo nianca lavavo nianca la mazzetta dove l'avete e il pet sono divinazione altissima che cala come mette schiaglio perfibone e poi troddò l'arroche un solo farà che mette per il puri e tro treaties che trovi le cloudonea ma mia... ma mia... ti ho fatto pieno di bacino, di trigirin... ma mia che ha fatto le protezione... ma mia che lei è bella... ma mia per le donne... ma cosa che è conviene... la cosa che è capitano... se vuoi confondermi... prima sono avuto il pezzo per la salata... no... io... io... E' un po' a venire la cosina. A vera, a diar che credo. La cosina che aveva votato a parlare a mangiare sì. L'hanno visto un po'... Che cosa? Infatti mi accorna e mi diceva, ma questa è la casina. Ma signora, ma che fa? Sembra la sciullo. L'epita di troppo a sciullo. E' schifo. No, a me, mica la cosa lì fa lì più male. Ma no. Però, a part... E' un po' al gusto, perchè... Al gusto è bella. Il gusto va be, la buletta... E' un po' piccare, un po' aumenta, però... Ma non rispetto, ma rispetto niente rispetto alla luce. Ah, non scamina il buletto della luce che mi mangio un salata. E' anche la salata. No, mi mangio la luce su un punto, eh. Mi la luce l'ho aumenta una cosa esagerata. C'ho aumentato il buletto, 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 e cambia il gestore, valla, tutto finito. No, mi tocca di cambia il gestore. E ora, il daga, e cambia tutte le lampadine, metta tutte le lampadine a letto, a basso consumo. Ah, si prende la sottestisse, perchè... No, ma adesso... Tengo tutti lì, al minimo, proprio giusto, giusto, che... E' un po' più contento. Beh, ma il buletto è strato certo, in una fase che sei contento di fare aumenta, no? Quanti, no? Niente! Ti pago più niente! Ti pago più niente! Ma non è certo! Ma non è possibile! Ma è una cosa un po'... come dice... Una cosa un po' nuova, un po'... E' cambia il gestore... E' cambia il gestore... Ma è... Ma è... Mi, per esempio... Mi la luce è di un'altra di lene... Ma scusa... Ma è la luce... C'è niente? Niente! Ma... ma arriva qua da venire... Se tu le dici... Ma l'idea è possibile... Ma la luce è di noi... Ma arriva la luce... Lei fino alla mattina... Se qua scusa... Ma l'idea che puoi cercare... Ma che cosa vabbè l'idea? E' gratuito notturno... Ma l'idea è gratuito notturno... Ma l'idea è la soluzione... Ma l'idea è... Ma l'idea è... Se va di cosa fa... Ma di... Di... Certo che mangiare stuta sina dopo... Eh... E' il zucchino... C'u Somebody... Ne puoi talbiate... Gritare forte... Ma l'idea è che... Non è possibile una cosa fa l'idea? Ma no, ma vada che... Ti dice... Ma dove va che scusa... Vada... Te arriva la luce zero... E li dite a quello... Visco il food... Ti ha buffa... Ma scusa... Viscuo sviscalo... Il freezer sviscalo... Sì... un po' giochi per l'edito la pasta che c'è una grossa e tutta la piastra in discio non c'è tutto l'insieme e fare un telefono per la matrice e la rastoviglia ma come non è possibile che la sneg di niente ma se non sta manca a te se non sta manca a te ma scusa ma come fa si andiamo avanti in quella maniera che contrate con chi? che è l'Elenel che ha fatto quel contrario ma mi segniamo se l'Elenel mi praticamente mi circolviamo con la più la prima ah allora lì si è una cosa leggerissima si è una cosa leggerissima la bellissima è gravissima è una cosa leggerissima è una cosa leggerissima perché di noi la più sta manca a spazio però lo spio non ti dico che poi ci si andava di fare ah dai è anche di truffa truffa ben culato è il gioco ma è come a fase non ti dico che ho bebutato l'anadrent è anche di truffa ma perché come fa ma anche lì le pache per stacchè tutte quelle cose lì ma è scattata ma è scattata ma è scattata ma scusa tiens se io che io metto James mi non ti dico per esempio appunto dico dico ma è dico niente e da noi le arugge porto le galassi una mappa le chandelle e 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 lì e lì che il generatore e 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 una fotocellula allora e' chiesa va bene a vera certo li tengo la parola comportesta e' anche per un senso civico e anche per un cos comunque allora ho miso un colt ma che ne ha più ma ti è tacchato con la mattrì ah sicura? sta facendo doma qua perché voglio via la macchina, vieni più là appuntare il programma 90 gradi ma dovrei finire ah 90 gradi, poi è scorda te te che svegli vieni adesso fai scorda l'economia no? ma ti pensa che qui sotto che è risparmiando il bulletto è cantata l'asciugatrice bravo, 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 ora venga, ora però dicevo, metta che dormi perché quando la presa è finita mi leva al capone qui a 90 gradi, la cibo, la cibo, la cibo, la cibo la cibo, la cibo, la cibo, il tutto, la cibo ma tu è più che dalle che, a stura di solito, il profumo che per usciugare l'examen allora, qui che la cibo, la cibo, la cibo, la cibo, la cibo mi fa scorrere le asciugatrice, che mi piace la cosa Grazie.